Buonanotte, è passata mezzanotte, quindi vi racconto quello che è successo ieri nella settima giornata dei campionati nazionali universitari. Una discreta giornata, abbiamo conquistato due bronzi nella sciabola maschile con Filippo Caminiti e nella sciabola femminile con Greta Marini. Nel pomeriggio il basket ci ha dato una bella soddisfazione, vincendo il proprio incontro contro Brescia, partita impegnativa, però la nostra squadra è prima ritmeticamente nel proprio girone, vedremo chi incontrerà in semifinale. Pomeriggio dedicato all'attenzione del tirasegno che ha conquistato un oro nella carabina squadre con Gianluca Soldavini con Alessandra Bertolini e Giovanna Bianco, un oro più femminile che maschile e i bronzi di Gianluca Soldavini nella carabina individuale maschile e Stefano Spagnoli ha conquistato il bronzo nella pistola. Quindi una bellissima giornata. Per quanto riguarda la giornata di oggi, visto che ieri sera è arrivata la delegazione dell'atletica leggera forte di ben 36 elementi, insomma abbiamo fatto la classica riunione con il discorso della bandiera e abbiamo sollecitati i ragazzi a difendere l'onore del Cus Milano. Quest'anno più che mai messo in pericolo dalle numerose rappresentative di Padova, Bologna e Torino. Vedremo come andrà a finire, sicuramente i nostri si batteranno come dei leoni, anzi come dei biscioni. Abbiate fiducia, buonanotte.